Partita che siete riusciti a chiudere con un pareggio nonostante un primo tempo quasi dominato poi avete preso il gol e alla fine la disperata rimonta siete riusciti a piazzare la zampata almeno per riuscire a strappare un pareggio Sì, diciamo che sono 6-1-1 che facciamo e sempre c'è tanto rammarico al primo tempo dovevamo essere più cattivi, più incisivi fare gol così per mettere la partita sui binari giusti poi abbiamo preso un gol diciamo un po' così è andata a pallo, rimparlo sul portiere e gol loro potevano poi raddoppiare noi ci abbiamo messo tanto cuore come sempre e non ci stiamo mai a perdere almeno questo Hai detto bene che è un po' l'ennesimo pareggio che fate come mai non riuscite mai a vincere? Perché come hai visto bene la partita al primo tempo bisogna fare gol mettere la partita sempre sui binari giusti invece sempre a rincorrere poi fortunatamente ci mettiamo tanto merito nostro per parigiare Era una sfida tra due squadre e comunque a metà classifica un punto non serve a nessuna delle due come vedi magari il resto del campionato? Il resto del campionato è che ci manca un po' per tramutare i pareggi in vittoria è quello purtroppo uno dice che il pareggio non serve però se sei sempre sotto di un gol è meglio quello che niente Grazie Ciao 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 Ciao